ciao a tutti allora nel video di oggi ho messo delle foto che si avete già visto però volevo fare un video delle foto quelle che mi piacciono le foto si qualcosa di inedito ma le foto quelle belle quelle che ogni volta che le vedo sono veramente belle intramontabili quelle che mi lasciano sempre a bocca aperta quindi perdonatemi se qualcosa l'avete già visto ma avevo proprio voglia di ricondividerle perché qualcuno mi segue dall'inizio ha visto tutti i miei video qualcuno magari solamente il primo qualcuno ne ha visti solo altri quindi ho messo molte foto ripeto che mi piacevano molto soprattutto quelle dei cantieri e dei ribaltabili comunque colgo l'occasione per ringraziare tutti quanti ma davvero tutti perché è veramente bella la community che abbiamo fatto nei commenti nel nel dibattito che c'è ringrazio infinitamente chi continua a mandarmi le foto del della sua vita passata dei dei vecchi mezzi ecco l'unico piccolo piacere che chiedo fate conto che più del 70 per cento di chi guarda i miei video li guarda ma non è iscritto cliccate semplicemente su iscriviti non costa nulla non vi costerà mai nulla nemmeno in futuro vi tiene aggiornati solamente se carico dei nuovi video non è una cosa che che vi arrivano notifiche cazzate roba che disturba assolutamente no però a me da un grandissimo aiuto perché più iscritti più youtube gradisce i miei video e quindi li li tiene alti come visualizzazioni li fa conoscere anche chi non li conosce e questo può essere utile a tutti perché così magari qualcun altro ci invia le sue foto tenute nascoste nel cassetto e abbiamo delle gradite sorprese per tutti vi ringrazio per tutto e buona visione Grazie a tutti 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 Grazie a tutti